Non hai ancora ottimizzato la memoria virtuale sul tuo pc? Ai 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 ai! Andiamo a vedere come si fa. Ti senti pronto? Iniziamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va! E qui devi immaginare una musichetta tipo Il Mondo di Quark perché ho bisogno di spiegarti per bene ma in parole semplicissime che cos'è la memoria virtuale altrimenti come facciamo a impostarla? La memoria virtuale è un componente essenziale di tutti i sistemi Windows e non solo. Rappresenta un'estensione della nostra memoria fisica quindi della RAM fisicamente installata sul nostro computer per mezzo di un file che si chiama pagefile.sys che viene collocato sul nostro hard disk meccanico o ssd che sia. Andiamo a dargli un'occhiata. Per farlo apriamo il nostro esplora file, ci portiamo su questo pc, apriamo il disco c e apparentemente vedrai che questo file manca come se fosse inesistente. E questo fino a quando non ci porteremo sul menu visualizza, ci cliccheremo su, andremo sull'ultima voce, quella che si chiama mostra e attiveremo gli elementi nascosti. Fatto questo dovremo portarci sui tre puntini orizzontali, cliccarci su, scegliere la voce opzioni, portarci sul menu visualizzazione, scendere un pochino più in basso e andare a disattivare la voce nascondi i file protetti di sistema. Clicheremo su sì e quindi cliccheremo su applica oppure direttamente su ok. Ed eccolo qua il nostro pagefile.sys che sul mio computer occupa da solo più di un giga di ram e non ho neanche aperto alcuna applicazione sul mio computer, ho solo avviato il sistema operativo. Ma che cos'è questo file e soprattutto che cos'è e a cosa serve la memoria virtuale? Ebbene, te lo spiego in parole semplicissime. Nel momento in cui la nostra memoria ram del computer si riempie, Windows per evitare sovraccarichi prende tutti i dati che non sono immediatamente necessari e li sposta in questo file, e cioè nella memoria virtuale, e lo fa per due motivi ben precisi. Il primo è evitare che la nostra ram si sovraccarichi e il secondo, ben più importante, che il computer diventi instabile. Ma quello che devi sapere è che questo file in realtà non è indispensabile su tutti quanti i pc. E allora andiamo a vedere quando serve e quando no, e soprattutto se sul tuo computer devi tenerlo o meno. Dato che, come abbiamo appena visto, la nostra memoria virtuale è strettamente legata alla memoria fisica presente sulla nostra macchina, una prima considerazione da fare in via assolutamente preliminare è capire quante ram è installata sul nostro computer. Per farlo, la maniera più semplice che posso suggerirti è premere la combinazione di tasti CTRL, SHIFT ed ESC e vedrai che ti si aprirà la gestione attività. Dopodiché ti porterai su questa seconda voce, quella che si chiama prestazioni, ci farai un clic su e vedrai un quadro sinottico che ti riassume le caratteristiche principali del tuo computer, tra cui naturalmente anche la memoria, che come puoi vedere nel mio caso, ammonta a 16 GB. E qui va subito fatta una prima considerazione. Se la tua macchina ha 8 GB di RAM o meno, sarà assolutamente indispensabile che tu utilizzi la memoria virtuale. Ma non basta, la memoria virtuale sarà fondamentale anche su macchine dotate di una quantità maggiore o anche molto maggiore di RAM, che tuttavia utilizzano delle applicazioni molto pesanti come possono essere i giochi, le applicazioni di grafica oppure quelle di editing video. Inoltre, se andiamo a dare un'occhiata a questo grafico qui, ovviamente relativo alla memoria, potremo fare una valutazione sulla base dell'altezza di questa riga. Se, come nel mio caso, la riga è molto bassa, significa che stai utilizzando poca memoria sul tuo computer e che l'utilizzo di memoria virtuale sarà relativamente importante. Se tuttavia, al contrario, la riga dovesse trovarsi molto in alto e rasentare addirittura il tetto del grafico, significherà che hai un estremo bisogno di utilizzare molta memoria virtuale sul tuo computer. Ma attenzione, questa valutazione non va fatta come la sto facendo io in questo momento, mentre il PC non è sottocarico. Bensì sarà una valutazione da operare nel momento in cui la nostra macchina sta lavorando a pieno carico e quindi, proprio come negli esempi precedenti, starà per esempio facendo girare un gioco, un'applicazione di grafica, un'applicazione di editing video e così via. E va bene Vito, adesso sappiamo che cos'è la memoria virtuale, sappiamo quanta RAM è installata sul nostro computer e sappiamo quanta ne viene utilizzata. Ma questa memoria virtuale come dobbiamo impostarla? Ebbene, quello che devi sapere è che esistono tre macromodi di impostare la memoria virtuale. Il primo è quello di disabilitarla completamente e questa è un'opzione che ormai con gli ultimi aggiornamenti di Windows non consiglio più in nessunissimo caso. Ma la seconda e la terza sono quelle più interessanti, perché la seconda è quella di lasciar fare tutto quanto a Windows in maniera automatica che nella maggior parte dei casi fa un lavoro più o meno decente. Mentre il terzo modo, quello più interessante per quanto ci concerne, è quello di andare ad impostarla manualmente. E questo terzo modo te lo consiglio in alcuni casi. Il primo è se vuoi ottimizzare al 100% le prestazioni del tuo computer. Il secondo è se hai dei messaggi di memoria insufficiente. Il terzo, se monti un SSD e vuoi evitare le continue scritture e letture che vanno ad usurarlo e poi se hai un problema particolare con qualche app specifica che richiede una quantità di RAM fuori dall'ordinario. In questi casi andremo ad ottimizzare manualmente la memoria virtuale del nostro computer secondo uno schemino molto semplice che ho pensato di prepararti. Come vedi tutto quanto parte dalla quantità di RAM fisica installata sul tuo computer. Andremo ad impostare manualmente le dimensioni della memoria virtuale secondo questo calcolo. La dimensione minima della memoria virtuale dovrà essere pari alla quantità di RAM installata mentre la dimensione massima dovrà essere esattamente il doppio. Per cui volendo potrai fare tu stesso i calcoli opportuni ma come vedi per le dimensioni di RAM standard te le ho già fatti io. Ma adesso andiamo a vedere come impostare esattamente la memoria virtuale del nostro sistema. Per farlo ci porteremo qui in basso sul tasto start e dopo averci cliccato su sceglieremo la voce impostazioni. All'interno delle impostazioni sul lato sinistro cliccheremo su sistema e scorreremo in basso fino all'ultima voce quella che si chiama informazioni sul sistema. Facciamo clic per aprirla e andiamo a cliccare su questa voce qui impostazioni di sistema avanzate. Si aprirà una finestrella esattamente come questa. Al suo interno dovrai cliccare sulla scheda avanzate e successivamente nella sezione che si chiama prestazioni cliccare sul pulsante impostazioni. Fatto questo cliccheremo sulla scheda avanzate e andremo a cliccare sul pulsante cambia in corrispondenza della sezione memoria virtuale. Fatto questo togliamo il segno di spunta alla voce gestisce automaticamente dimensioni di file di paging per tutte le unità e cliccheremo su dimensioni personalizzate. Al suo interno sulla base della quantità di RAM presente sul nostro computer e dello schemino che ti ho presentato oppure della modalità di calcolo che ti ho illustrato andremo a inserire la dimensione iniziale e la dimensione massima della nostra memoria virtuale. Ad esempio abbiamo visto che sul mio computer sono presenti 16 giga di RAM per cui sulla base di questo schemino come dimensione iniziale andrò a digitare 16384 e come dimensione massima invece inserirò 32768. Fatto questo cliccheremo sul pulsante imposta e successivamente sul pulsante ok. Chiudiamo tutte quante le schede rimaste e quello che ti consiglio di fare a questo punto è riavviare il tuo computer per goderti la tua memoria virtuale perfettamente ottimizzata sulla base delle tue esigenze. Avevamo già fatto un video molto vecchio, uno dei primi sul nostro canale in cui trattavamo questo argomento ma devo dire che innanzitutto sono mutate le esigenze nel tempo e in secondo luogo che essendo proprio molto vecchio tanti nuovi membri della community non lo avevano visto per cui continuavano ad arrivarmi richieste nei commenti di rispondere a questo tipo di esigenza per cui ho deciso di rifare tutto quanto per benino sperando che per un po' siamo a posto ma veniamo a noi o meglio veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti solo ed esclusivamente proprio per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima iscriviti grazie a tutti